Diciamo che più che altro ci dispiace aver perso una partita dove comunque abbiamo fatto una scuola forte. Ma prima cosa non avevamo raggiunto, non avevamo raggiunto la scuola. E' stato molto equilibrato. E' stato un buon partito. E' stato un bello, non mi sembrava dire. Quindi, complessivamente è chiaro, c'era una delusione perché volevamo vincere, volevamo fare bene. Ma, anche se勝ate, è un'altra situazione. E' anche se non c'è una situazione, ma anche se non c'è una situazione che è vero. Ma, quando la differenza, sono Hagate quino, caso la scuola delle scuole che se mi est 모든 metà nel nyt. E' anche una scuola, quando la spuole degli scuola, ovviamente nonostante. Chef un giro sattivo conven problemi, se molta cosa delizio face pernah sería lasciata, ma, perché èoncé che non presto nelle sp adoption, quali le pittovebleze non specialmente non ci abbiamo fatto. Ma, è una stanza dic Luciano, questo cosa si vuole pot après avlagrare, ahi avevo Judah adopting. Eh, Luật ancora, la vostra scuola donna mai op moregate. Plusiate attra slotati in�anti, non断 con 확인ati. E' un ottimo spazio che non avevamo sofferto Urawa. E' chiaro che Hiroshima è come Urawa, è una squadra forte, una squadra che ha qualità. E' una squadra che ha vinto il campionato. E' una squadra che ha vinto di più in Giappone. E' una squadra che ha vinto di più in Giappone. E' una squadra forte. E' una squadra forte, ma noi giochiamo. Noi dobbiamo avere questa attesta di voler giocare, di voler vincere, di voler far bene, avere entusiasmo, avere addissimità. Tutte le cose messe insieme. E' una squadra forte, ma abbiamo tutti i suoi motivi. E' una squadra che è sempre preparata. E' una squadra che vince tanto. E' una squadra che vince tanto. E' una squadra che non ha vinto. Perché in Giappone evidentemente ha tante qualità. Sicuramente una di queste è la velocità che hanno quando riparto, il spazio. In questo caso, come dicevole, la spazio di spazio di spazio, la spazio di spazio di spazio di spazio di spazio di spazio di spazio. Quindi non si può fare questo. All'andata avevamo dei problemi, pronti via. La partita abbiamo compromesso subito, dopo pochi minuti. In questo caso, il tenere è stato un'attesa, ma in questo caso, il momento è stato un'attesa. In questo caso, in ogni caso, non avevamo ancora una squadra capace di gestire e recuperare certe situazioni. Quando si tratta di un'attesa, il corso di un'attesa che si tratta di un attesa, dove si tratta di un attesa, in quanto a 90 minuti, dove si tratta di ammettere un potere, ma non si tratta di controllo di spazio di spazio di spazio. Il momento in cui, in questo caso, il momento è stato più consapevole di quello che si tratta. In questo caso, ora, in qualche tempo, in situazione, dove si tratta di ammettere un potere, il potere da esprimare, è inizia di più. In questo caso, Non riusciamo a essere questi se ogni partita l'affrontiamo con la gran determinazione e con tutte le qualità che abbiamo, senza risparmiare niente. In questo momento, abbiamo già fatto un'attività, abbiamo già fatto un'attività, ma non è finito. E' un'attività che abbiamo già fatto un'attività, e abbiamo già fatto un'attività. Ma è un'attività che ha fatto un'attività, ma è un'attività che non è possibile. Ma è un'attività che 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 è un'attività. In questo momento, abbiamo già già avuto l'attività, ma non è così. Chiappone questa domanda che non è così. Ma non è la prima volta che abbiamo già avuto l'attività, e abbiamo già già avuto una cosa. Non ci dobbiamo farlo in questo momento, ma non ci dobbiamo fare un'attività. E non ci dobbiamo fare, in questo momento, non ci dobbiamo fare un'attività. E che questo è quello che invece vi è l'attività di risposta. Non ci dobbiamo fare un'attività che è possibile. Chiaramente la domanda è possibile. Non ci dobbiamo fare un'attività.